Ciao, sono l'insegnante Maria Maria Marcelli dell'Istituto Comunitivo Alberto Buri di Trestina. Sono referente per il progetto di dimensione digitale e in questo anno i nostri ragazzi hanno aderito all'iniziativa a un'attenzione in classe. Inizialmente questo percorso è stato portato avanti dalle classi prime della scuola secondaria universitaria. Al termine degli incontri i ragazzi si sono ritrovati in gruppi ed hanno elaborato con una poesia. Qualora la nostra poesia risultasse in cedrice, utilizzeremo e regare soldi per l'attesto di materiale del loro. Anch'io come ambasciatore di Hunter vi invito a votare la scuola secondaria di primo grado Alberto Buri di Trestina. Colgo le occasioni per ringraziare il dirigente scolastico, il corpo docenti e soprattutto gli alunni che hanno partecipato con forte entusiasmo a questo evento. Votate la nostra scuola!